Il mondo odierno, spesso segnato dalla violenza, dall'avidità e dall'indifferenza, ha grande bisogno della nostra testimonianza del messaggio di speranza nella forza redentiva e di riconciliazione dell'amore di Dio che viene dal Vangelo. Lo ha detto oggi Papa Francesco, ricevendo in udienza i membri della Papal Foundation, organizzazione nata nel 1988 che si fa carico di sostenere vari progetti di carità nel mondo. Il Papa ha ringraziato i presenti per l'impegno ad aiutare gli sforzi della Chiesa nel proclamare il messaggio di speranza del Vangelo fino ai confini della Terra, sottolineando che ciascuno di noi, come membro vivo del Corpo di Cristo, è chiamata a promuovere l'unità e la pace della famiglia umana e di tutti coloro che la compongono.